Si tratta di una bella iniziativa che mi pare avrà anche un grande riscontro, far conoscere i 28 paesi dell'Unione Europea è un nobile scopo perché bisogna conoscere tutti i membri dell'Unione Europea affinché possiamo capire i motivi, le motivazioni perché siamo tutti insieme in questa Unione Europea. Per noi, per la Croazia è molto importante far parte dell'Unione Europea perché così facciamo parte dell'Europa naturalmente che ambisce alla pace, al benessere, alla solidarietà tra tutti i popoli e tutte le nazioni. Noi che siamo ancora un po' novelli qui nell'Unione Europea, vogliamo far conoscere allora tutti gli aspetti della nostra cultura, società, delle istituzioni e naturalmente la più importante cosa è far conoscere la cultura e tutti quelli che contribuiscono naturalmente all'arricchimento dello spirito non solo nella Croazia ma oggi con tutta la comunicazione in tutta Europa.